Due mesi fa fu la CUPI a lasciare i rubinetti a secco, ora ad essere tagliata è stata la luce, con ripercussioni anche sull'approvvigionamento d'acqua, soprattutto i piani alti. Da quattro giorni sono tornati i disagi per le 22 famiglie, alcune delle quali con disabili, anziani e bambini, di queste due palazzine popolari in via Iacopone da Todi a Trepuzzi. Disagi che l'arrivo del caldo rende intollerabili, una storia che si ripete ogni tre o quattro mesi da anni. Non è la prima volta, sono parecchie volte che si fa questo lavoro ma non si finisce mai. Il problema è sempre lo stesso, la morosità cronica della maggior parte degli inquilini è alto il rischio di alimentare tensioni tra condomini. Gli effetti di questa situazione infatti si ripercuotono inevitabilmente anche su chi è in regola col pagamento delle bollette. L'ascensore condominiale è fermo, inutilizzabile sia per i morosi sia per chi non lo è. Alle casse dell'amministrazione condominiale è stato dato fondo per tamponare il pregresso, ancora una volta quindi l'appello è al comune. È al comune dell'OIACP, tutti e due, perché qua ci sono persone che non possono, perché non tengono per andare avanti. Sono persone perché stanno senza lavoro con la crisi che c'è, sono persone che vivono soltanto una misera pensione, come fanno?